Ciao a tutti, oggi vi parlerò di un argomento che di sicuro conoscerete e che riguarda all'incirca un miliardo di persone in tutto il mondo ovvero i social network i social network sono delle piattaforme online con cui condividere video e foto e conoscere nuove persone però utilizzare questi siti online può portare alcuni rischi come ad esempio imbattersi in persone sconosciute se i vari social sono utilizzati nel modo scorretto potrebbero ferire gli altri come è il caso del cyberbullismo ovvero umiliare, insultare e dispreggiare una persona tramite chat e vari social le varie piattaforme online, se usate in modo eccessivo, potrebbero diventare addirittura una droga che ti impedirà di uscire con gli amici e sostituirli con dei semplici contatti di whatsapp ormai ho notato che con queste nuove generazioni, di cui ne faccio parte anch'io ci sono molti ragazzi e ragazze che stanno sempre con la testa china a guardare uno schermo a posto di guardare il bel mondo che li circonda la morale di tutto questo è che sì i social network ci possono far divertire ma non potranno mai sostituire l'amore, l'affetto e l'amicizia che potrà dare una persona reale e non un contatto dietro ad uno schermo che potrà dare una persona reale e non un contatto dietro ad uno schermo che potrà dare una persona reale e non un contatto dietro ad uno schermo